Sei forte, sei intelligente, sei gentile, due, tre, quattro, cinque, sei, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Inspira ed espira, sempre con il naso, inspira ed espira. Ciao. Ti do il benvenuto in questa sessione di rilassamento e di rimozione dell'energia negativa. Io sono Chiara e sarò la persona che ti aiuterà in questo percorso stasera. Ho diversi strumenti che ci aiuteranno a rimuovere questa energia negativa. E iniziamo subito pulendo l'ambiente e richiedendo l'aiuto di un cristallo e una pietra. Questa è Selenite. Te la faccio vedere. E' molto usata, appunto, tra le varie sue proprietà. Per avere le proprietà di aiutare a scombrare la mente, aiutare a togliere tutti quei pensieri che ci fanno male all'animo. Per esempio, aiuta anche molto, ad esempio, col sentimento della gelosia. Per fare un esempio. Aiuta molto ad affrontare le paure. Quindi penso che in questa sessione sia proprio ciò di cui abbiamo bisogno. voglio appoggiarla sulla tua fronte e pian piano su tutto il viso per permetterti di assorbirne l'energia. Concentrati. Concentrati. Perché gran parte del lavoro dobbiamo farlo anche noi. Respira. Respira e senti il flusso di energia che passa dalla Selenite e attraverso il tuo corpo. Come vedi ho scelto un ambiente di colore blu. Il colore blu insieme al colore verde e al colore viola sono identificati come aiutanti per il rilassamento. colori che favoriscono il relax e la concentrazione e la meditazione. Se vuoi quindi possiamo anche cambiarlo, cambiare questa luce in viola o verde. E se deciderai anche durante questa sessione di voler cambiare colore, in base a ciò che senti, dimmelo assolutamente e lo farò. E ancora adesso la passo su di te. Cerca di riempirti di pensieri positivi. Cerca di focalizzarti su delle energie positive, dei concetti positivi. Concentrati sulla gentilezza, sulla forza e sulle potenzialità del tuo corpo. Cerca di sfruttare questo momento al meglio per ricaricarti di un flusso di energia puro e forte. Il nostro corpo può tutto. Noi possiamo tutto. Il tuo corpo è forte. La tua mente è viva. La tua mente è attiva. La tua mente è incredibile. Il tuo corpo è il tuo miglior alleato. Il tuo corpo è il tuo miglior amico. Sei forte. Sei intelligente. Sei gentile. Hai una forza che non credevi neanche di avere. Adesso con questa selenite passo anche dietro alla tua testa, ok? Adesso la tua schiena. Ok. Ecco qua. Questa sì virtuale. Respira. Respira. Respira, respira. Alexandre. Sulla tua schiena, sulla tua colonna vertebrale, la senti? La stai sentendo? Bene, respiro Grazie Grazie. Eccomi tornata. Come stai? Ok, va bene, facciamo altri 30 secondi. Te la passo altri 30 secondi, va bene, non c'è problema. Sono contenta che tu senti effettivamente qualcosa a cambiare dentro di te e scodere, così come se tutta questa energia stesse entrando nelle tue vene, nelle tue arterie, e stesse arrivando dal cuore fino alla punta dei piedi, fino alla punta delle tue dita, delle mani, fino alla radice dei tuoi capelli. Molto bene. Ora voglio fare con te una breve sessione di respirazione guidata e anche una breve meditazione. Per aiutarci voglio riempire tutti i sensi, voglio aiutare tutti i sensi a concentrarsi su di te, a concentrarsi su questo momento. Il segreto infatti di ciò che andremo a fare è che bisogna concentrarsi sul ora, su questo secondo, su ogni secondo che è prezioso. Un saggio disse che il tempo è talmente prezioso che ci è donato solo di momento in momento. Per il senso dell'olfatto ho preso questo profumo aromatico dolce, non invasivo, che aiuterà solo a concentrarti. Questo è a base di olio di amla, essenza di pazzuli. E vado a profumare l'ambiente. Ok. Annusa prima, senti se ti piace, altrimenti lo cambiamo. Va bene? Ok. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ora chiudi gli occhi per un attimo. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Respira profondamente e concentrati su questo, su quest'aroma. Ok. Un altro mio fedele alleato è uno strumento che ci aiuterà a concentrarci, è questa campana tibetana. non ti fare ingannare dalle sue dimensioni. In realtà è molto potente. Quindi ti faccio sentire. Prima di cominciare con la campana tibetana, voglio insegnarti un attimo a concentrarti sul tuo respiro. Il respiro è fondamentale per una buona meditazione, anche breve, anche solo di cinque minuti. Ma il respiro è ciò che ti aiuterà più di tutto a concentrarti. Quindi se vuoi chiudi gli occhi, se vuoi tagli aperti, metti le mani sulla tua pancia, sul tuo stomaco. Ok. E ora respira con il naso. Inspira. Ed espira. Sempre con il naso. Inspira. Ed espira. Cosa devi sentire? Non devi respirare con il petto, ma devi respirare con la pancia. Perché ti ho fatto mettere la mano sulla pancia? Perché devi sentire la pancia che si alza e si abbassa, che si allarga durante l'inspiro e si lascia andare in espirazione. Ok? Riproviamo e concentrati su quest'azione. Inspira. Ed espira. E ancora. 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 E... Ancora uno. Senti la pancia. Bene. Questa è la base. Adesso chiudi gli occhi. Ancora. Ancora. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Eliminiamo per un attimo il senso della vista, che è quello che ci distrae maggiormente. Ancora. Chiudi gli occhi. 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 concentrati sull'aspiro, mani sulla pancia inspira e la pancia si gonfia espira e la pancia si gonfia inspira e la pancia si gonfia ed espira e la pancia si gonfia e ancora inspira, concentrati sulla sensazione della mano, sulla tua pancia e controlla che i respiri siano regolari e che siano tutti lì, non siano mai sul petto controlla che siano dei respiri profondi, completi ok, molto bene vedo che lo stai facendo nel modo corretto ora ti farò ascoltare un po' la campana tibetana la sola cosa a cui devi pensare è il tuo respiro poni tutta la tua concentrazione sull'atto di respirare tu sei qui, ora e stai semplicemente respirando bene, continua così bene, senza bene Continua a respirare 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 Puoi incanalare sentimenti e pensieri in questi respiri Quindi ad esempio Se vuoi forza Inspira e inspira forza Io sono forte Inspira Io sono forte Respira la forza L'energia del tuo corpo, l'energia della natura Inspira Ed espira E adesso aggiungiamo l'espirazione Tu continuo a ispirare e ispirare con regolarità Aggiungiamo anche ciò che vogliamo che il nostro corpo trasmetta Ciò che vogliamo dare agli altri Ciò che vogliamo chiesca dalla nostra persona Ad esempio Ad esempio Potremmo volere gentilezza Quindi Inspiriamo forza Inspiriamo forza Ed espiriamo gentilezza Ancora forza Ancora forza E gentilezza Concentrati solo su questo Forza 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 E gentilezza Non c'è altro adesso Quindi respira Respira e concentrati su ciò che vuoi Immettere nel tuo corpo E ciò che vuoi dare agli altri Ok Può essere anche speranza Può essere anche speranza Può inalare gratitudine È molto un bel pensiero E bisognerebbe inalarlo tutti i giorni Gratitudine per questo momento Gratitudine per la vita Gratitudine per ciò che hai Ok E ad esempio Puoi donare agli altri Speranza Coraggio Ascolto Puoi donare tantissime cose Pensa a ciò che più si adatta Alla tua persona Ok Quindi ancora inspira E pensa a ciò che vuoi mettere nel tuo corpo Ciò che vuoi che scorra fra le tue vene Ed espira E butta fuori ciò che vuoi dare agli altri Ok Ancora pochi secondi Inspira E Ed espira Inspira Ed espira Adesso pian piano Cominci a prendere Coscienza di tutto il tuo corpo Parti Dalle dita dei piedi Dalle dita delle mani Pian piano Cominci a muoverle Lentamente Lentamente Fai flottuare le tue dita Muovi le tue dita Muovi i polsi Ok Poi passa le caviglie Le gambe Le spalle Ok E infine Puoi aprire gli occhi se vuoi Io spero davvero Che tu stia meglio Io vedo dal tuo sguardo Lo vedo che in soli Venti minuti Il tuo sguardo è cambiato È più rilassato Ha più intenzione Ha uno scopo diverso E soprattutto È più libero Di seri liberata In questi minuti Di tutto ciò che era inutile Nella tua vita Di tutti i pensieri Che non ti servivano Invece hai fatto il pieno Di energie positive Di forza Del tuo corpo Della tua mente In questo esercizio Per la meditazione Puoi farlo a casa Io ti consiglio Personalmente di fare anche Una piccolissima pratica Se non di yoga Se non di yoga di stretching Questa sarà diversa Sarà diversa Riuscirai a incalanare Un'energia Che non ti aspettavi Che non ti aspettavi Io spero davvero Che tu ti senta meglio Quanto vuoi Questa stanza è tua per un'ora Quindi hai tanto tempo Per rilassarti Puoi ancora Utilizzare la selenite Se vuoi Puoi Puoi vaporizzare ancora Il profumo Puoi utilizzare la campara tibetana Ok? È tutto tuo Io ti auguro Una buona vita E mi auguro davvero Di rivederci Perché ogni tanto Queste sessioni Fatte con l'aiuto Di qualcuno Possono servire Anche i miei esperti Davvero Ti auguro gioia Buon rilassamento Buon rilassamento